La Toscana rilancia la propria azione contro il razzismo e il neofascismo in vista del giorno della memoria del 27 gennaio con il meeting al Mandela Forum di Firenze in cui sono attesi 7.000 studenti e con la creazione di una task force di professionisti per rispondere ai post razzisti e fascisti sui social annunciata a Firenze dal presidente Enrico Rossi alla presentazione del rapporto sui nuovi razzismi delle Università di Siena, Firenze, Pisa, Istituto Storico della Resistenza e Istituto San Galli. Per questo io penso che dovremo lavorare per preparare un gruppo di giovani in maniera appropriata, ad usare un linguaggio appropriato, a stare sui social in maniera da contrastare questo tipo di cultura. Una cultura da cui la Toscana non è immune in base al rapporto sui nuovi razzismi e contro la quale è opportuno mettere in guardia i giovani di tutte e dieci le province toscane attesi al meeting a Firenze che dal 2006 si tiene negli anni alterni a quelli del treno della memoria per Auschwitz. Quest'anno è l'ottantesimo anno dell'entrata in guerra dell'Italia ed anche il settantesimo anno dell'apertura delle porte di Auschwitz. Dedichiamo questa giornata al tema delle vite spezzate. Al centro del meeting ci saranno le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle l'orrore delle deportazioni e le voci di chi vive i razzismi di oggi. I meccanismi sono relativamente semplici e drammatici. Crisi economica, c'è un po' da fare. Debolezza della politica. Ricerca di un capo espiatorio cambia, ma insomma spesso sono sempre gli stessi. Una giornata, quella del meeting, per parlare chiaro e ricordare anche le responsabilità italiane nella tragedia delle deportazioni. Ci sono evidenze della storiografia, della storia, che ci dicono che i deportati politici toscani arrestati dopo lo sciopero del marzo 1944 in molti, diverse centinaia, e deportati a Mauthausen sono stati arrestati tutti dai militi della Repubblica Sociale Italiana. Stessa cosa dicasi anche per gli ebrei arrestati in Toscana. In tutta la Toscana saranno 150 gli eventi organizzati per il giorno della memoria.